Veneria moderna che presenta i loro tempi dei vini Gansi molto bellini, molto modelli tra l'altro il bianco e il usato sono fatti con zero zuccheri che è un po' la tendenza della richiesta del mercato esatto, perché ci stavano raccontando che i vinoni sono frutto dei cambiamenti le aziende stanno correndo sono fisiche, sono cose ovviamente stanno lavorando certo, ovviamente per correggere questi cambiamenti ma ci sono anche le aziende intelligenti che li stanno, non stanno bene gli occhiali sempre lì e abbiamo assaggiato c'è questa uva iconica stagnola lo fa in 60 anni e poi ci sono un sacco di storie bellissime ma quello vinificato in rosè era una novità buono, molto buono, è una bella trama diventosa bellissime, freschi, nuovi, poteri e li potete trovare la Villenia moderna la Villenia moderna e poi ci abbiamo anche eccoci ben concili in persona è il nostro ok sì grazie 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 ciao grazie 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 grazie